Su impulso del sindaco Damocoppola continuano incessanti controlli da parte della Polizia Municipale di Agropoli per vigilare sul rispetto del DPCM del 3 novembre 2020 e delle ulteriori disposizioni tese al contenimento del contagio da Covid-19. Nel pomeriggio di ieri 25 novembre il personale del comando coordinato dal comandante Sergio Caucegli ha effettuato una serie di controlli all'interno di medie strutture di vendita presenti sul territorio comunale, effettuando una dettagliata ricognizione dei prodotti esposti per la vendita, rilevando che in due attività, site e località mattine e un'altra in via taverne, l'esposizione degli stessi avveniva senza accorgimenti restrittivi di prodotti non accusi all'allegato numero 23 del DPCM del 3 novembre 2020, in violazione dell'articolo 3,4 del medesimo decreto. Il personale operante è proceduto a contestare il fatto illecito ai titolari delle rispettive strutture di vendita, procedendo alla contestuale completa interdizione dalla vendita al pubblico dei prodotti allo Stato non commerciabili, con diffida agli interessati e rispetto delle norme statali e regionali di riferimento in relazione al rischio di contagio da Covid-19. Emesse a carico di ciascuno dei titolari delle strutture la sanzione amministrativa prevista per legge pari ad Euro 400, l'attività di controllo degli esercizi commerciali, proseguirà anche nei prossimi giorni.